Cari amici, ritengo che sia utile, come stiamo cercando di fare negli ultimi giorni, dare una informazione continua, aggiornata, sulla situazione in atto per quello che riguarda il coronavirus. Credo che la cosa migliore sia quella di dare spiegazioni ai nostri concittadini perché ognuno sia consapevole di quello che si sta facendo e perché ognuno possa mantenere gli elementi di serenità che sono necessari in questo momento. Voglio spiegare innanzitutto il senso delle decisioni che sta cercando di prendere il governo e che prendono anche i governi regionali. Il senso è questo. O sviluppiamo un'attività di prevenzione oggi di massa per controllare il fenomeno coronavirus oppure se queste operazioni non riescono noi avremo una ospedalizzazione dei pazienti, cioè avremo una situazione che diventa davvero drammatica perché non potremo ovviamente ospitare tutti quelli che hanno il contagio da coronavirus. Attività di prevenzione significa anche isolamento domiciliare di cittadini che hanno sintomi o anche che non hanno sintomi. Questo ci serve, ripeto, per evitare di dover portare tutti in ospedale. È evidente che per raggiungere questo obiettivo il governo decide che per due settimane si bloccano tutta una serie di attività, si sospendono le attività scolastiche, si bloccano gli spostamenti soprattutto dalla Lombardia, da una decina, quindicina di comuni più a rischio. Ma questo è l'obiettivo, cercare di alzare un muro per impedire la diffusione del contagio. Perché questa operazione riesca bisogna essere rigorosi e controllare che tutto funzioni. Ma ripeto, se questa operazione non funziona e non riesce, dovremo poi rassegnarci ad avere una ospedalizzazione. Questo significa che la situazione negli ospedali diventa pesante perché si dovrà decidere a un certo punto se ricoverare in terapia intensiva chi ha un trauma da incidente stradale o chi ha il coronavirus ed è in condizioni gravi. Questo è il senso dell'operazione che si sta cercando di mettere in piedi. Allora, voglio parlare su tre o quattro argomenti che sono al centro dell'attenzione anche delle nostre famiglie. Primo, quello che sta succedendo per gli arrivi in treno, in pullman, in auto, dal nord, dalla Lombardia verso le regioni del sud. Secondo, che cosa si fa per i concorsi che sono in atto, tema su cui c'è una preoccupazione reale, ma anche qualche tentativo francamente sconcertante di speculazione politica. Spiegheremo in dettaglio quello che stiamo facendo. Terzo, la situazione di locali aperti, chiusi e dell'ordinanza che ho fatto qualche ora fa in relazione ai locali. Quarto, la scuola, quello che si fa per la scuola. Quinto, quello che si fa per le terapie intensive. Cerco di fare una informativa anche ampia, ma probabilmente è utile dare un quadro generale ai nostri concittadini. Io credo che sia il modo migliore per trasmettere serenità e per dare consapevolezza del problema. L'emergenza di queste ore, il governo ha discusso un decreto del Presidente del Consiglio per bloccare le partenze dalla Lombardia e da tante altre realtà del nord. Prima che fosse approvato il decreto, mentre sto parlando il decreto non è ancora pubblicato, c'è stata la corsa a prendere treni, aerei, autobus per rientrare nei territori del sud. Allora abbiamo dovuto prendere un provvedimento di questo tipo che è contenuto nella mia ordinanza. Quelli che arrivano dal nord, dalle regioni a rischio, devono andare in isolamento domiciliare per motivi prudenziali, quindi per due settimane devono rimanere in isolamento domiciliare. Questa misura è contenuta nella mia ordinanza, quindi è obbligatoria per tutti quelli che sono partiti dalla notte scorsa per rientrare dalle zone a rischio. Chi arriva da quelle zone deve essere identificato. Questa è responsabilità delle ferrovie dello Stato, delle agenzie di trasporto su Pullman. Dobbiamo sapere ovviamente che tante persone sono rientrate con le auto private. Ci sarà una parte dei cittadini che dovrà avere il senso di responsabilità di segnalare il proprio arrivo da quelle zone all'asla di appartenenza, al comune di appartenenza e comunque obbligato a rimanere in isolamento domiciliare. Questo ripeto per motivi prudenziali. Ovviamente per questi nostri concittadini, ma anche per tutti gli altri, quando c'è un sintomo, tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria o anche quando non c'è un sintomo, ma si proviene dalle zone più a rischio, bisogna segnalare la propria presenza in isolamento domiciliare al medico di famiglia e poi si valuta. Quindi non andiamo ai pronto soccorsi anche quando abbiamo sintomi, parliamo prima con il medico di medicina generale e decidiamo insieme il da farsi. Secondo argomento. Voi sapete che raddoppio dei posti di terapia intensiva. Voi sapete che in Lombardia c'è oggi una situazione di grandissima difficoltà negli ospedali. Diciamo i posti letto in terapia intensiva sono quasi tutti coperti. Già da qualche giorno il Ministero della Salute aveva chiesto alle regioni di raddoppiare i posti letto in terapia intensiva. Cioè prepariamoci anche con un piano B, un piano C in caso di aggravamento della situazione. La regione Campania ha deciso di raddoppiare i posti letto in terapia intensiva. Abbiamo avuto riunioni nelle ore che abbiamo alle spalle con i direttori generali per individuare gli ospedali nei quali avere questo raddoppio dei posti letto di terapia intensiva. Passeremo dai 320 posti che abbiamo oggi su scala regionale a quasi 500 posti letto aggiuntivi rispetto ai 320. Quindi ci stiamo preparando a fare una riorganizzazione imponente che avrà un costo aggiuntivo per noi di 30 milioni di euro. Questa operazione deve essere fatta quanto più rapidamente possibile. Qual è il problema? Per quanto riguarda i lavori edili da fare in una struttura ospedaliera non c'è problema. Nell'arco di una settimana noi completiamo questi lavori. Ma questo ovviamente non basta perché c'è un problema duplice, personale e tecnologie. Se non hai il personale sufficiente, non hai le tecnologie necessarie, l'aumento di 500 posti letto in terapia intensiva diventa teorico ma non ha effetti pratici. Allora noi stiamo lavorando con i direttori generali per avere un cronoprogramma, cioè per avere dei tempi di attuazione di questo incremento di posti letto che sia reale. Allora noi dobbiamo ragionare innanzitutto sulle specialità mediche che sono necessarie. Dobbiamo reperire il personale. Complessivamente abbiamo bisogno di altre 1600 unità fra medici, infermieri, operatori sociosanitari. Abbiamo bisogno di avere nuovo personale in queste branche. Anestesia, infettologia, pneumologia, radiologia, medicina interna, farmacia e nefrologia, oltre che medici MKU, come si dice, cioè nei pronto soccorsi. Stiamo ragionando con le scuole di specializzazione, cioè con le scuole nelle quali i laureati in medicina si stanno specializzando nelle diverse branche mediche. Lavoreremo nelle prossime ore per fare contratti di assunzione a tempo determinato con i medici impegnati nelle scuole di specializzazione in quelle branche. Quindi avremo un contratto aggiuntivo per avere da subito personale medico disponibile. Lavoreremo per avere lo scorrimento delle graduatorie, dove ci sono graduatorie ancora aperte che riguardano queste specialità mediche, oltre che per l'assunzione del personale infermieristico necessario. Ovviamente tutte queste operazioni vanno fatte ad oras, non con i tempi della burocrazia italiana, altrimenti arriveremo fuori tempo utile. Ci muoviamo nell'ambito di poteri commissariali che ci sono stati assegnati, ma in qualche caso ci sono sempre dubbi interpretativi. Se possiamo procedere da subito con le assunzioni o dobbiamo avere un passaggio prima con il Ministero, noi andiamo avanti subito, senza altri passaggi. Personale, quindi per rendere effettivi i posti letto in più in terapia intensiva, personale. tecnologie. Noi dobbiamo acquistare soprattutto ventilatori, apparati tecnologici in grado di portare ossigeno ad ogni posto letto aggiuntivo, perché di questo ci sarà bisogno. Ho sentito che si farà una gara nazionale per queste tecnologie a martedì prossimo, la farà la Consip. Noi abbiamo dato indicazioni ai nostri direttori generali e alla centrale di acquisto della Campania di procedere comunque, a prescindere. Quindi se troviamo sul mercato fornitori di queste tecnologie disponibili, acquistiamo quello che ci serve. Poi si vede con le forniture nazionali. Questo per quanto riguarda i posti di terapia intensiva. Stiamo lavorando anche per un approvvigionamento prudenziale di farmaci che servono di sostegno alle terapie per i pazienti di coronavirus e abbiamo chiesto l'autorizzazione all'Istituto Superiore di Sanità per accreditare, oltre che il laboratorio del Cotugno ha anche altri due o tre laboratori nei quali fare i tamponi, cioè cerchiamo di non perdere neanche 12 ore di tempo, perché al Cotugno si fanno due sedute di controllo di laboratorio, la mattina e la sera. Quindi il controllo che si fa la sera ci viene comunicato poi nei suoi esiti. La mattina vorremmo cercare di non perdere neanche queste 10-12 ore per avere l'esito dei tamponi e quindi cercheremo di avere un laboratorio a Ruggi, dove siamo pronti, a Salerno, al Moscati, pure siamo pronti e così via. Questo per quanto riguarda la parte sanitaria, cioè per dare tranquillità ai nostri concittadini. Facciamo al massimo possibile il lavoro di prevenzione, di accertamento dei contatti che hanno avuto i singoli contagiati, ma ci prepariamo anche ad avere nell'arco di una settimana i posti letto in terapia intensiva anche per fare fronte ad un contagio estremamente più pesante rispetto a quello che abbiamo oggi in Campania. Questo per dare serenità ai nostri concittadini. Quindi ci stiamo preparando ad avere negli ospedali i reparti pronti anche in caso di emergenza drammatica. Problema dei concorsi. Voglio dare un chiarimento definitivo su questo tema. Voi sapete che in Campania sono in atto due concorsi, uno piano per il lavoro della regione Campania, il piano che abbiamo varato per dare lavoro a 10.000 giovani diplomati e laureati, cominciando da un primo blocco di 3.000 giovani da mandare a lavorare subito. Poi c'è un secondo concorso che è appena partito per 640-650 assunzioni nei centri per l'impiego. Chiariamo bene perché su questo punto dei concorsi c'è stata una preoccupazione reale, ma ci sono state anche speculazioni politiche ignobili. Primo, i concorsi che stiamo facendo non sono bloccati dalle norme nazionali, quindi erano concorsi pienamente autorizzati. Ovviamente con gli accorgimenti prudenziali che ci venivano suggeriti. Allora, il concorso per il piano per il lavoro della regione Campania è finito, si è concluso. Abbiamo solo 15 persone che hanno rifatto ricorso al TAR, per le quali ci sarà l'ammissione ad una prova che è prevista fra il 27 e il 28 marzo. 15 persone. Questo concorso si concluderà entro marzo. C'è il secondo concorso, centri per l'impiego, per il quale partecipano 61.000 concorrenti. Hanno chiesto di partecipare. Sono state svolte due prove per 1.547 partecipanti. 5 partecipanti di questi 1.500 partecipanti provenivano dal nord, ma non da zone rosse. E tuttavia queste 5 persone hanno svolto il concorso in una sala separata. Dopo che per loro, come per tutti i partecipanti, è stata misurata la temperatura corporea, i 5 hanno fatto il concorso in una sala separata alla presenza di infermieri che seguivano la prova. Per tutti i concorsi che abbiamo fatto è stato presente un drappello della polizia che ha controllato le distanze dei banchi, che sono state superiori al metro previsto dalle normative nazionali. Quindi abbiamo messo a distanza di quasi due metri ogni banco, con il controllo della polizia. È stato presente un gazebo dell'ASL, con due infermieri e un medico presente continuamente. Abbiamo avuto la disinfezione dei bagni prima, alla fine di ogni prova e dopo. abbiamo garantito il massimo della sicurezza sanitaria possibile. Chiaro? Allora, il primo concorso si è svolto e si conclude. Per il secondo concorso, quello per i centri per l'impiego, per ragioni prudenziali, riteniamo di doverlo rinviare per dare tranquillità a tutti quanti. Quindi, il primo è concluso, quello della regione piano per il lavoro. Il secondo viene sospeso, perché gran parte delle prove devono essere espletate nel mese di marzo e per ragioni prudenziali, dopo le decisioni di queste ultime ore, riteniamo ragionevole sospendere il concorso, anche per utilizzare le forze mediche e quelle che controllano i concorsi in altre emergenze. Perché abbiamo fatto andare avanti il concorso della regione? Perché i vincitori sono destinati a 240 comuni e alle corti d'appello di Napoli e di Salerno. Nei comuni oggi non c'è neanche il personale per andare a controllare i locali. Non ci sono vigili urbani disponibili ad andare a controllare che i locali di notte rispettino le norme. Quindi era un concorso che aveva lo stesso valore dei concorsi che facciamo in sanità, che andranno avanti comunque con le norme di sicurezza di cui vi ho parlato. Quindi abbiamo fatto tutto sulla base di norme straordinarie di prudenza, di serietà, di correttezza e di tutela della salute dei partecipanti. Quindi tranquilli tutti e nessuna polemica, per cortesia. Terzo punto, un chiarimento sulle questioni che riguardano i locali e l'ultima ordinanza che ho pubblicato. Ora anche qui parliamo con grande chiarezza e con grande buonsenso. Abbiamo detto che si sta facendo un tentativo estremo per bloccare la diffusione a macchia d'olio del contagio. Cioè si sta cercando di innalzare un muro per tentare di frenare il contagio. Ora è chiaro che questa operazione ha un senso e avrà un risultato se c'è il senso di responsabilità di tutti i nostri concittadini. Altrimenti non si raggiungerà l'obiettivo. Ma posso dire con grande semplicità è mai possibile che per una chiusura di locali di due settimane dobbiamo avere comportamenti irresponsabili. Cioè le decisioni attuali valgono per le prossime due settimane in questo tentativo estremo di bloccare il contagio. Questo è tutto. Allora la cosa non era prevista nei decreti del Governo nazionale. Noi l'abbiamo anticipata nei giorni scorsi. Abbiamo deciso la chiusura di locali pubblici, di iniziative, eventi che prevedono assembramento di cittadini. Abbiamo deciso anche la chiusura di palestre e piscine. Rimangono aperti i centri di riabilitazione. Quando c'è qualche famiglia che non porta il proprio figlio a fare la riabilitazione non si perde il diritto ad avere l'accompagnamento, le agevolazioni previste dalla legge. Registriamo ancora posizioni irresponsabili da parte di gestori di bar e di pub. Le norme prevedono che si possono tenere aperti questi locali se ci sono clienti seduti al tavolo e a una distanza di un metro. Bene, noi sappiamo che questo obbligo è del tutto teorico e nella realtà viene disatteso, violato continuamente. Nella serata di ieri, nella nottata di ieri, sabato notte, i baretti della zona della Movida, a Napoli e in tanti centri storici dei diversi comuni della regione erano gremiti di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Bene, ai gestori di questi bar vorrei dire ma è mai possibile che voi per guadagnare 100 euro in più dovete correre il rischio di perdere 10.000 euro fra due settimane. E soprattutto è mai possibile che dobbiamo correre il rischio, questo lo dico alle ragazze e ai ragazzi affettuosamente, lo dico alle famiglie, dobbiamo correre il rischio di avere un contagio generalizzato per non modificare per due settimane i nostri comportamenti. Poi vedremo fra due settimane quello che dobbiamo decidere sulla base della condizione reale del contagio, ma per due settimane possiamo avere comportamenti irresponsabili. Francamente diventa incomprensibile questo continuare in comportamenti che andavano bene quando non c'era una situazione di emergenza. Allora tutta la comprensione ovviamente per chi ha queste attività commerciali, per l'amor di Dio. Sappiamo bene che c'è una situazione difficile, complicata, pesante per tutti, ma oggi l'emergenza è bloccare il contagio. E da questo punto di vista noi non guarderemo in faccia a nessuno. Se abbiamo deciso che per due settimane occorrono misure straordinarie, queste misure vanno rispettate. Allora, se la situazione rimane quella che abbiamo avuto anche la notte scorsa, noi saremo obbligati a fare ordinanze di chiusura di bar, pub, ristoranti e quant'altro. Perché davvero non si può scherzare più. E non sono tollerabili i comportamenti, come dire, di disinvoltura, di disattenzione, di irresponsabilità. Perché se Dio non voglia esplode l'emergenza negli ospedali, noi rischiamo davvero di farci male. Sapete che in Lombardia ci sono situazioni negli ospedali per le quali un medico deve decidere se deve dare il posto in terapia intensiva a chi ha avuto un incidente stradale, chi è traumatizzato, chi ha un trauma cranico o chi ha una condizione pesante dal punto di vista polmonare e respiratorio. Io vorrei che non arrivassimo in queste condizioni, anche nella regione Campania. E faremo di tutto perché i comportamenti irresponsabili siano contrastati ed eliminati, anche dal punto di vista penale. Infine per le scuole. Abbiamo fatto bene a chiudere. Si sono interrotte le attività universitarie. Poi vediamo anche per gli esami quello che bisogna fare nei prossimi giorni. Perché teoricamente gli esami erano consentiti qualche giorno fa. Però se anche in questo caso non vanno nelle università solo quelli che devono fare gli esami, ma vanno gli amici, i compagni, i familiari, veramente la cosa diventa incontrollabile. Allora, una raccomandazione. In alcune realtà i docenti hanno impegnato i ragazzi a fare laboratori, a fare attività di ricerca fuori del comune nel quale è collocato l'istituto scolastico. Questo è vietato. Stiamo facendo di tutto per impedire le gite scolastiche, per non incrementare i viaggi in varie parti del territorio nazionale. Le attività fuori del comune di residenza e quindi al di là del luogo nel quale c'è la scuola, sono vietate. Lo dico per i docenti, lo dico per le famiglie, non mandate i ragazzi in giro a fare seminari, a fare verifiche. Rimaniamo nei territori di appartenenza e verifichiamo quello che si può fare dal punto di vista scolastico utilizzando moderne tecnologie. Allora, noi stiamo valutando alcune situazioni specifiche. personale scolastico, bidelli, docenti e quant'altro. Ci dicono molti di loro, guardate che noi non facciamo niente, guardate che noi siamo costretti a viaggiare sui mezzi pubblici. Questo è un problema che valuteremo con attenzione nelle prossime ore e nei prossimi giorni. È chiaro che se possiamo limitare il viaggio di personale, docente e non docente, è una cosa positiva. Però abbiamo anche delle attività didattiche che vengono fatte dai docenti che sono nelle scuole in collegamento informatico con gli studenti. Quindi è un tema così specifico che dobbiamo valutarlo con un'attenzione particolare. Ovviamente è chiaro che i dipendenti del pubblico impiego in altri comparti statali vanno a lavorare perché non si può bloccare l'attività ordinaria dello Stato. È chiaro che se l'attività didattica è bloccata c'è una ragione particolare da valutare, però lo faremo con attenzione, ripeto, anche in relazione con le attività comunque in corso da parte dei docenti. Poi stiamo ragionando su altri problemi particolari. Vi faccio l'esempio dei divulgatori scientifici che continuano ad andare negli studi dei medici di medicina generale. Dobbiamo valutare se non sia il caso. Vi faccio questo esempio che potrebbe valere per tante altre piccole attività specifiche. C'è da valutare se sia il caso di proseguire queste attività per due o tre settimane o bloccarle per due o tre settimane e poi verificare l'andamento del contagio. Allora, cari concittadini, credo che vi darò anche nei prossimi giorni, quando sarà necessario, se è necessario anche ogni mattina un'informazione aggiornata sul contagio, sulla diffusione del contagio, ma soprattutto su quello che si sta facendo. Perché più circolano notizie false, più ridotta è l'informazione ai cittadini, più cresce l'ansia, l'incertezza, il dubbio. Io sono sinceramente convinto che più diamo le informazioni aggiornate sulla situazione e su quello che stiamo facendo, più cresce anche il livello di serenità e di consapevolezza dei nostri concittadini. Voglio dirvi in conclusione, però, capiamo tutti quanti che se non c'è il senso di responsabilità di ognuno di noi, il problema. Faremo fatica a governarlo e faremo il doppio, il triplo della fatica a sconfiggere il contagio. Lo sconfiggeremo comunque, però ognuno di noi capisce che un conto è risolvere il problema in due mesi, un altro conto è trascinarci un'epidemia che rischia di coinvolgere migliaia di nostri concittadini e non più solo in Lombardia, Veneto, Emilia, Piemonte, ma in tutto il territorio nazionale, perché in questo caso davvero avremmo bisogno di mesi e mesi e mesi. Allora la mia raccomandazione è questa, che ognuno di noi sia responsabile e consapevole dieci volte di più, non solo nei comportamenti che riguardano l'igiene personale, laviamoci le mani venti volte al giorno, quando abbiamo avuto contatti non solo con persone, ma con superfici, penso ai mezzi pubblici, penso ai treni e così via, un'attenzione straordinaria per l'igiene personale. Ma poi anche nei rapporti con le persone. Intanto limitiamo assolutamente le frequentazioni sociali. E dai, due settimane, tre settimane, non è necessario andare a fare la cena, andare a fare la festa anche a casa di amici. E poi non abbiamo imbarazzo nel rifiutare la stretta di mano. A volte anche per abitudine ci si incontra e si fa l'accenno alla stretta di mano. Alziamo le mani, spieghiamo a tutti che dobbiamo essere prudenti. Non abbiamo imbarazzo a chiedere anche ai nostri amici, anche ai nostri familiari. Hai avuto contatti con persone provenienti dai focolai? Sei andato fuori regione, fuori comune? Hai avuto frequentazioni con altre persone? Nessun imbarazzo? Facciamo le domande. Cerchiamo di essere prudenti tutti quanti. Vedete che se ci sarà un elemento di consapevolezza generale, di attenzione generale, noi conterremo. Limiteremo il problema a quello che è strettamente obbligato per il livello che ha assunto questo contagio. Ma è chiaro che se abbiamo comportamenti di sciatteria, di disattenzione, o se abbiamo, lo dico soprattutto ai ragazzi, questa non è una sfida, non è una prova di coraggio. Non è che se andiamo in giro in maniera disinvolta siamo più coraggiosi, siamo più irresponsabili. Allora, un appello davvero ad essere tutti prudenti, attenti, consapevoli che il problema è serio. Se ci sarà questa consapevolezza, vedrete che il problema lo governeremo e lo risolveremo nel modo migliore. Ma abbiamo bisogno dell'aiuto di ogni persona, di ogni cittadino. Mi rivolgo ai ragazzi, alle ragazze e ai padri e alle madri di famiglia. È chiaro che avremo la necessità di modificare i nostri comportamenti di vita. Ma è indispensabile se vogliamo tutelare la vita dei nostri cari, dei nostri familiari, delle persone anziane, dei nostri figli. Allora mi aspetto da tutti quanti voi davvero comportamenti estremamente rigorosi e responsabili. Per il resto non perdiamo la testa. Il problema c'è, lo stiamo affrontando con la determinazione necessaria, con l'organizzazione necessaria, ma con la ragione. Nessun panico, nessuna angoscia. Stiamo lavorando con tutta la serietà che richiede questo momento. Un saluto a tutti quanti voi e un augurio per voi e per le vostre famiglie. Tranquilli tutti. Grazie.